come ti senti? bene quanto tempo sei stato qui? tre mesi 17 maggio cosa ti ha portato qui il mio psichiatra e cosa è successo per averti portato qui in ospedale? difficile rispondere la psichiatra ha scelto che questo era il posto giusto per te giusto? sì ti ha detto perché? no lo psichiatra no qualcun altro ti ha detto perché? no ti sei fatto un'idea? sì qual è? non sono completamente come le altre persone cosa vuoi dire con questo? alla gente non piace perché non sono completamente come loro e in cosa sei diverso? sto cercando di fare qualcosa nel quotidiano qualcosa che le altre persone non fanno e questo cambia il mio modo di pensare e quindi le mie azioni cos'è che stai cercando di fare nella tua vita? suonare il piano per la gente non ho capito bene com'è possibile che suonare il piano per la gente ti abbia portato qui in questo ospedale? mi siedo diversamente quando sono al piano e quando sono lontano dal piano sembro diverso e alla gente non piace? non gli piace perché ti siedi diversamente al pianoforte? sì in che modo ti siedi al pianoforte tanto da non piacere agli altri? non posso descriverlo con un'immagine come mi siedo? come fai a sapere che non gli piace? mio padre lo fa i medici lo fanno perché bello ed è bello dice il